I primi a chiudere, gli ultimi ad essere vaccinati, i primi però anche ad adeguarsi a tutte le disposizioni anti contagio al momento tra i pochi focolai creati attraverso le proprie attività. E' pronta ad esplodere la rabbia e la delusione della categoria degli acconciatori e delle estetiste di Salerno che attraverso l'associazione provinciale che li rappresenta, la CNA di Salerno, intende far sentire forte il proprio grido di protesta contro la scelta ritenuta incoerente dell'ultimo DPCM di chiudere i servizi alla persona. Come ha fatto notare la CNA di Salerno, inoltre al momento la campagna vaccinale non ha proprio preso in considerazione di includere nel crono programma le categorie professionali che invece vengono considerate tra le maggiori a rischio quando si deve decidere sulle chiusure e a peggiorare questo quadro desolante che sta mettendo in ginocchio centinaia di imprenditori del settore della bellezza il proliferare degli abusivi. Restano aperti infatti i fornitori di materiale per estetiche ed acconciatura così da favorire chi lavora a nero. Ultima ma non meno rilevante nota dolente che conferma le incongruenze di queste scelte anche la chiusura dei servizi forniti dai tolettatori che rientrano nella stessa categoria artigianale. Qual è il rischio di contagio di un settore che si prende cura degli amici a quattro zampe che non sono contagiosi? Chiede la CNA di Salerno.